Alla fine anche la regione siciliana ha detto sì. Nonostante quella idea dei due maxi termovalorizzatori non entusiasmasse lo stesso presidente della regione Crocetta. Non accetteremo imposizioni da Roma, aveva detto. Alla fine sembra aver prevalso la ragione di Stato. In sede di conferenza Stato-Regioni anche la Sicilia ha infatti dato parere favorevole alle norme contenute nell'articolo 35 del decreto sblocca Italia, in particolare in quel passaggio che riguarda la rete nazionale di termovalorizzatori nella quale ovviamente è inserita la Sicilia. Due sole le regioni che hanno votato contro Lombardia e Campania. La regione siciliana aveva chiesto la costruzione di sei mini impianti. Adesso però si dovrà procedere con il piano del governo e con due maxi termovalorizzatori. Nei piani del governo ne è previsto uno nella Sicilia occidentale e l'altro nella Sicilia orientale per una capacità di smaltimento pari a 700.000 tonnellate all'anno. Il resto dovrà passare dalla differenziata. Ma il via libera al piano segna anche un arretramento delle regioni e molti passi avanti sulla materia da parte del governo nazionale. Stando al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti infatti si rompe il principio dell'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti a livello regionale e si crea una rete unica a livello nazionale.